Se volete acquistare crediti passate dalla FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 3% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, benvenuti ai miei iscritti, più di tutti bentornati su Gioviac di Spò. Io sono Giovi Spò e questo è l'ennesimo episodio, il settimo della serie scontro tra titani, stagione 2. Akinfer, il mio amato Akinfer, è l'artefice di questa serie. Tutto dipenderà da lui e sta dipendendo molto da lui. Infatti ho dovuto aggiungere due giocatori argento, un oro normale, un if perché non ha subito gold e un oro raro. Akinfer in queste partite non mi ha particolarmente entusiasmato. Non è un portiere TOTS degno di quel nome, secondo me. Ci sarebbero molti più portieri TOTS più forti di lui. Tipo consigli, ad esempio, lo stesso Courtois, DJ, anche se non l'ho ancora provato, e altri. Nello scorso episodio vi ho chiesto di scegliere tra Bocchetti e un altro, non so come si chiami, vabbè. Avete scelto naturalmente Bocchetti perché naturalmente, lo dico due volte, naturalmente è più bravo di quell'altro. Allora andiamo ad aggiungere Salvatore Bocchetti. Andiamo a mettere la qualità di Bocchetti in difesa. E dunque, speriamo una buona sorte in questo episodio. E la Troia se ne va la connessione, porca vacca. Ed ecco la squadra di nostro avversario. È bella, questa è bella. Bella squadra. Abbiamo un portiere messicano, Ayala, in difesa centrale. Abbiamo Montelo alla destra, Moreno, attaccante. Poi abbiamo quell'altro che non mi viene il nome. Come uno dei due cicci. Uno è, eh, vabbè, dettagli, dettagli, dettagli. Onda per Dovornokovic. Dovornokovic, come ti chiami il tiro? Palo, troia. Vai, 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 vai. Mamma mia, che schifusso, mamma mia. Che su, che onda, i capelli bianchi, ah. No, non mi piace Montero, mamma mia, che inferno. Eh, che capolfiore, mamma mia. Eh, che cazzo, povero. No, Ramirez, no. Mamma mia, ti sei salvato. Mi sono salvato, anzi. Dovornokovic, se vuoi... Vai, vai, torno, no, che... Passalo in mezzo, passalo in mezzo. Vai, Rondon, vai, Rondon, il pallonetto. Vai, col pallonetto, pallonetto. 58 ettimo. Con il Rondon, la rondata micidiale. Micidiale, un corno, perché stiamo pareggiando. Di Rondon, pensavo fosse fuori gioco. Pensavo fosse fuori gioco. Cacata difensiva, Dovornokovic. Non capita ancora come cazzo si chiama. Dovorn... Mamma mia, no, questo corner, non mi piace. Mamma mia. Ma se è un trimone a Kinf. Ho detto giù, ho detto giù. Ho fatto con la freccia giù, o va a dare a quello lì? Ho fatto con la freccia giù, o va a dare a quello lì? Ma... Ma perché questo gioco è così? Perché? Perché questo portiere è demente? No, mo... Fernandez, fermato da Moreno. Non ti sedere, non ti senti seduto. Mamma mia, porca troia, porca troia, Kinf. Ti potevi buttare sul giocatore. Facendo un rigore, ma almeno ti salvavi il culo. Ma pure si poteva buttare meglio. Si poteva pure buttare su questo tiro. Boh, va bene, la merda. Mamma mia, Kinf. Ma fai schifo proprio. Ma troia. E ma troia. Mamma mia. Meno male che sta finendo questa serie. Mamma mia. Io non posso più vederlo questo portiere. Non para niente. Non para niente. Avrà fatto due o tre parate. Tutto sta cazzo di parate. Finisce quest'altra partita di merda. Altri gol subiti da Kinf. Come se non la fosse. Non mi sembra un portiere. Secondo me se lo metto a centrocampo, gioca meglio. Questa Kinf. Non lo capisco, non lo capisco, non lo capisco. Non so più che cazzo fare con questa Kinf. Li metto il difensore centrale buoni. No, niente. Se ne lo sento. Li metto quelli cesi. Se ne lo sento. E come cazzo si fa? Vabbè. Sarò cos'è ad aggiungere un altro giocatore argento. Come se non bastasse. Faccio una ricerca su Google Tade e vi dico. Quali saranno le scelte. Aspettate qui. Allora. Potrete scegliere tra due esterni e sinistri. E sono. Uno è Maicon. Con 73 di overall. E l'altro è Ribus Ribus. Con 73 di overall. Anche lui. Sono due giocatori argento. Fate la vostra scelta. Non lo farò commentando qui sotto. Se vi è piaciuto il video. Naturalmente lasciate un bel pollice all'insù. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui è Giovis Po. Vi saluto e benigrazie. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e bello a tutti.